Marcello Gandini, classe 1938, è forse uno dei designer italiani più iconici degli anni 60 e 70. Ma disegnava solo auto? No ma va, picchiava durissimo anche nei complementi d'arredo e nel design industriale. Affiancherà per molti anni il suo nome a quello di Bertone e regalerà al mondo alcune delle più belle e iconiche auto di tutti i tempi. Io lo chiamo sempre affettuosamente Mr. Miura, proprio perché l'ha disegnata lui. Tra l'altro, sempre per il Toro di Sant'Agata, ha tirato fuori dei gioielli come la Diablo e la Countach, solo per dirne alcune. Per non parlare poi di Alfa Romeo, per la quale ha disegnato macchine meravigliose come la Carabo e la Montria. Per Maserati poi macchine meravigliose come per esempio la Camsin o la Chamal, ma anche la Iso Grifo 90 per esempio, oppure la Fiat X19. Beh insomma, quando uno è un mito a questa maniera l'elenco è praticamente infinito. Voi che ne dite?